La prima volta che ti ho visto nella tua esposizione, perché non è uno spettacolo, mi è piaciuto il fatto che ero dubitoso sul tuo modo di esporre la storia, perché ho detto questo è il solito speaker che ci racconta la storiella per prendersi l'applauso. Poi ho scoperto proprio che il bello della tua esposizione è che non capisci dove vuoi arrivare, lanci subito il finale del film, però non capisci la storia che c'è prima del finale, quindi secondo me il tuo modello, il tuo format potrebbe andare avanti ed essere innovativo per i giovani del futuro e credo tantissimo nel tuo progetto che possa diventare innovativo al massimo. Per me è un modello perché io faccio teatro per hobby e capire la tua voglia di trasmettere ai giovani che ancora c'è ottimismo e ce la possiamo fare mi piace tantissimo. Ho visto i italiani di frontiere sia a Pesaro che a Catania e sono rimasto contento, sono Mario Molè, presidente dei giovani imprenditori di Ragusa. Grazie. 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 Grazie.